Forza, lo mettono questi ragazzi e vi raccomando di non muovervi perché dopo devono cantare loro e devi andare a vedere ascoltare i ragazzi di Sessa. Allora vi presento, cance sta, Ancelone Dolce Sostra viene da Santa Anastasia. Santa Anastasia. Santa Anastasia, ma si dice Santa Anastasia, non chiama me, così, o pensi come? Ah, siamo Santa Anastasia, perché? Si, 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 qui si rieva una alla fine del mondo, sono proprio lo zucco, poi non c'è bisogno di presentazione, Pino Iove, la leggenda della musica popolare, poi ci sta la signora Anna che accompagna tutti e due a te, il cameraman, signore, signori, buonasera, stanno pure, e che questa ragoriata, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!